Buongiorno, sono Natalia Cattelani, Master Designer in Nail Art di La Femme Professional, Master Educator e sui social mi conoscete come Nail Art by Natalie. In questo video in collaborazione con La Femme Professional vi farò vedere una velocissima e semplicissima Nail Art per Halloween. Spero che questo video vi sia piaciuto, alla prossima Nail Art!